È stata presente in collegamento telefonico, o meglio in collegamento vero e proprio, Elena Sofia Ricci al programma di Catrina Balivo, Vieni da me. Si è commossa, sono uscite copiose lacrime dal suo angelicato volto, parlando del padre morto, la quale Elena Sofia Ricci avrebbe detto al diavolo del padre, è morto troppo presto. Ha parlato proprio del padre, dell'amata madre, in collegamento telefonico, o meglio in collegamento videografico, la famosa attrice fiorentina per eccellenza, ed anche ovviamente Catrina Balivo ascoltando quelle parole si è un po' commossa leggermente. Un Elena Sofia Ricci comunque tutto sommato tenace, che va avanti per la sua strada, che dimostra una grande, una piena sensibilità, parlando del passato del padre, della madre, e del fatto che comunque è sempre brutto quando ti muoiono i genitori, e quando ti muore una delle figure a cui sei più attaccato, o più attaccata. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, questo video non vuoi dare la privacy di Elena Sofia Ricci, ma solo informare eventuali persone e basta. Un saluto caro da Reandro, narratore italiano.